Era il 2010 quando io ho iniziato a lavorare qui, ero veramente una bimba, sono passati 12 anni e come potrete notare sono visibilmente cambiata, no? Però questo a loro non sembra interessare, per loro sono sempre la stessa Jessica, quella di ieri, quella di oggi ed è per questo che ho deciso di ripartire proprio da qui. Grazie a tutti. 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 oggi è veramente un grandissimo privilegio.